Radio Amore presenta Amore Azzurro, speciale Di Maro, collegamenti in diretta con tutte le ultime notizie dal ritiro del Napoli, conduce in studio Lello Delgro, inviato a Di Maro Claudio Zelli, in collaborazione con Calcio Napoli 1926.it Ebbene, bene, rieccoci di nuovo qui in diretta dagli microfoni di Radio Amore, Radio Amore Migliori Anni, in diretta per questo secondo appuntamento quotidiano in diretta con Di Maro e il nostro speciale Amore Azzurro per sapere le ultime, le ultimissime su quello che sta succedendo a Di Maro. Insomma, è chiaro che tutto il nostro programma, tutte le nostre attenzioni sono chiaramente su quello che è successo, anche se però per la verità dobbiamo anche dire che dobbiamo metabolizzare questo addio oramai acclarato di Higuain dal Napoli e pensare al futuro. Il futuro che potrebbe essere un calciatore di cui si sta parlando nelle ultimissime ore. Alcuni siti hanno riportato un incontro tra il manager, che è anche la moglie del calciatore dell'Inter, Icardi, Vandanara, insomma, con la dirigenza del Napoli per vedere se Icardi può venire al Napoli, se vuole venire al Napoli per poi affrontare un discorso con la società. Vediamo quello che succede, nel frattempo salutiamo Claudio Zelli da Di Maro. Ciao Claudio. Buon pomeriggio, splende il sole su Di Maro, contrariamente a quanto si poteva ipotizzare dalle previsioni dei giorni scorsi e fortunatamente sono abbastanza risollevato. Intanto la squadra è in campo per la solita sezione pomeridiana e già dall'inizio è presente il pallone con esercizi vari. Io però sono in compagnia del direttore editoriale di tuttonapoli.net, Antonio Gaito, che saluto e siccome sicuramente ne avete sentito parlare, l'avrete letto sulle tante testate anche online e anche e soprattutto tuttonapoli.net, delle possibilità che il sostituto, o quantomeno le intenzioni del Napoli, il sostituto di Iguain potrebbe essere le intenzioni del club azzurro Icardi. C'è già stata, secondo Sky Sport24, un'offerta importante di circa 40 milioni di euro, 42 per la verità, all'Inter, ma servono ben oltre 50 milioni di euro per cercare di convincere il club a cedere il 23enne attaccante argentino. Chiaramente chiedo subito ad Antonio un parere se potrebbe essere l'uomo giusto per sostituire il Pipita. Sì, buonasera a tutti innanzitutto. Sì, c'è stato in mattinata, qualche ora fa ormai, l'incontro a Verona tra De Laurentiis, il DS Giuntoli, Chiavelli, consigliere delegato del Napoli. Quindi alcuni intermediari di Icardi e dell'Inter, questo incontro per il trasferimento dell'attaccante al Napoli. Il Napoli ha fatto già la sua proposta di ingaggio al giocatore, quindi si va verso un ricco adeguamento dell'ingaggio, che attualmente percepisce all'Inter per convincerlo a sposare il progetto del Napoli. Sotto questo punto di vista non ci sono grossi ostacoli, perché comunque il giocatore percepisce sotto i 3 milioni di euro con l'Inter e proprio il suo agente, il suo rappresentante, che poi ha anche la moglie, Vandanara, spinge ormai già da settimane, non senza polemiche mediatiche, per un adeguamento intorno ai 5 milioni di euro, che poi era l'ingaggio che percepiva Iguain a Napoli. Quindi Napoli, liberando i soldi del Pipita, poi potrebbe reinvestirli su Icardi, ma c'è da convincere l'Inter, perché il giocatore non ha una casa da recistoria in questo caso, possiamo dire. Quindi il club nero-azzurro lo considera incedibile. Poi ricordiamo che anche il capitano della squadra nero-azzurra, la volontà ovviamente del nuovo gruppo Suning è di non cedere ai pezzi pregiati, anche se poi fa fatica sul mercato in entrata. Quindi diciamo che l'ostacolo non è dei più semplici. Parallelamente è chiaro che il Napoli lavora su altre piste, ormai lo sappiamo il modo di operare del Napoli, cambiano i direttori sportivi, però il Napoli lavora su più tavoli, quindi teniamo in considerazione anche le altre ipotesi, in particolare quella di Carlos Baca. C'è stato già un sondaggio con l'agente del giocatore, quindi il Napoli l'ha messo in stand-by, e non a caso lui già da una decina di giorni rifiuta il trasferimento al West Ham, che è all'accordo col Milano per una trentina di milioni. Studio, se avete qualche curiosità per Antonio. Sì, no, più che una curiosità. Io volevo chiedere, questa squadra, se pensiamo bene, è stata così per ciò che riguarda i maggiori componenti della squadra, cioè i più importanti, anche i Guain, era arrivato qui quando c'era un allenatore che si chiamava Benitez, quindi aveva un appeal probabilmente importante nei riguardi di certi calciatori. Quest'anno invece abbiamo visto che addirittura uno che viene dalla Serie B, come la Padula, ci rifiuta. E così come la Padula, molti hanno rifiutato il trasferimento al Napoli. Potrebbe essere questo, in questo momento il Napoli potrebbe stare perdendo il suo appeal, ecco, la forza così di poter convincere i calciatori a venire. Oggi abbiamo sentito, non è una questione solo di soldi, ma è una questione di progetto. Se il progetto non c'è, il calciatore non vuole venire, perché altrimenti viene qui per giocare, ma sa che non potrà mai vincere. Parlo chiaramente di calciatori top player, quale potrebbe anche essere questo Icardi? Sì, sì, no, ho capito il tuo discorso. Poi è quello che fanno tantissimi tifosi con noi, anche qui a Di Mauro, è chiaro. Però poi questo viene accentuato anche dalla forza della Juventus in Italia, perché poi se mettiamo in discussione il progetto Napoli o comunque la forza del Napoli in Italia, che in questo momento credo sia ampiamente la seconda forza del campionato italiano, è chiaro poi possiamo fare questo discorso a cascata anche per tutte le altre squadre, dal terzo posto in giù, che hanno enormi difficoltà, forse anzi sicuramente superiori anche a quelle del Napoli, che comunque hanno una disponibilità economica importante. Poi è chiaro, ci sono stati dei rifiuti, come dicevi tu, questo è innegabile, però sono cambiate secondo me anche un po' di cose rispetto poi al primo anno di Benitez in particolare, dove quel Napoli lì si doveva costruire. È chiaro che poi se entriamo nel merito dei tanti rifiuti, possiamo dare delle spiegazioni diverse tra i vari casi. Quello lì di La Padula, ad esempio, è chiaro che magari il giocatore, non dico si starà mangiando le mani, però è chiaro che senza Iguain non penso poi La Padula avrebbe fatto quella scelta lì. È chiaro che ci sono in alcuni ruoli, in particolare delle figure ingombranti, possiamo dire, nel Napoli. Quindi, ad esempio, anche un giocatore, tra virgolette, normale, come Zielinski, prima di arrivare a Napoli e quindi mettersi alle spalle di Amsic, ad esempio, è chiaro che faccia diverse valutazioni e magari valuta anche altri club di prestigio come il Milan, dove lì avrebbe un ruolo di primo piano. Quindi diciamo che poi non è semplice muoversi per il Napoli, avendo già 11 dollari abbastanza forti, no? Perché poi comunque qualche risultato lo scorso anno l'abbiamo postato a casa. Assolutamente, assolutamente, certo, certo, certo. Senti, io volevo chiederti ancora un'altra cosa e poi chiaramente la chiedo pure a Claudio, risponderà anche Claudio. Come state vedendo Sarri? Lo vedete normale? Ha degli atteggiamenti un po' strani, che ne so? È incavolato? Cioè, quello che vogliamo sapere è come sta prendendo Sarri questa situazione Higuain, perché io credo che per Sarri era una pedina fondamentale nel suo scacchiere, nello scacchiere del Napoli della prossima stagione, che gli è venuto a mancare proprio nel corso di questo ritiro. Come pensate che Sarri stia prendendo la cosa? Sì, intanto poi in giornata abbiamo appreso anche comunque del malumore del tecnico, più che altro verso proprio il giocatore stesso, perché secondo poi quanto riportato dai colleghi stamattina sui giornali, comunque c'era una parola data da Higuain, almeno per rivedersi qui a Di Maro e discuterne insieme da vicino. Quindi diciamo che probabilmente il tecnico si aspettava qualcosina in più da Higuain dopo la stagione che hanno vissuto insieme, perché poi Higuain abbiamo decantato tutti le sue qualità, però poi diciamo anche che c'è molto di Sarri dietro, perché nelle scorse stagioni precedenti a Sarri non ha avuto lo stesso rendimento. Però al di là di questo poi il tecnico guida la squadra con la stessa grinta degli altri anni, lo sentiamo urlare sin dal mattino negli allenamenti, nelle esercitazioni tattiche, quando prova le palle inattive, guidando i giocatori passo dopo passo, veramente nella cura maniacale dei dettagli. È chiaro poi che lui avrebbe voluto magari un ritiro diverso, anticipando qualche rinforzo, poi è quella tipologia di allenatore che comunque si impegna al massimo con il materiale a disposizione che ha in questo ritiro a tantissimi giovani aggregati al gruppo e lui sin dal primo giorno ha allenato quelli come se fossero dei campioni appena arrivati. Certo. Claudio, una tua unione in merito. Sì, sì, intanto io saluto Antonio Gaito, se siete d'accordo. Sì, grazie, grazie. Grazie Antonio. Saluto a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ma guarda, io in poche parole, che causa del suo mal pianga se stesso, nel senso che se tu vai a mettere una clausola che, come ho detto stamattina e nei giorni scorsi, è difficile ma è sicuramente raggiungibile, devi aspettartelo che poi arrivi qualcuno all'improvviso e ti venga a pagare la clausola e tu ti possa trovare spiazzato come del resto è accaduto, perché a differenza di Lavezzi e Cavani, che erano le cessioni in qualche modo preventivate, questo è davvero stato un fulmine a certe, perché sembra strano accettarlo, ma francamente, devo dire la verità, ho la sensazione che De Laurentiis non fosse intenzionato poi a vendere Higuain e probabilmente magari l'avrebbe ancora trattenuto a Napoli, anche in considerazione del fatto che, come lui stesso ha detto, ora tutti sanno che il Napoli ha ben 90 milioni di euro da spendere e quindi le quotazioni di tanti calciatori aumenteranno. Però io, Lello, sconvolgo un attimo la scaletta. Come al solito. Eh certo, con un altro super ospite qui con me, un amico della nostra trasmissione ormai, Francesco Molaro, Club Napoli All News, Teleclub Italia, a cui chiedo un parere su questa situazione, che non è facile onestamente. È un momento strano, Claudio, intanto buon pomeriggio agli radioascoltatori. È un momento strano, lo dicevamo già ieri, lo ripetiamo oggi. Io ti sentivo dire questa situazione adesso di andare ad acquistare eventualmente qualche calciatore e i prezzi salgono, è chiaro, se l'Inter vuole 70 miliardi, adesso 70 milioni, una volta erano 70 milioni, 70 milioni di euro per i card e onestamente poi mi domando se il Pipita ne valeva ancora di più di 94 e qualcuno si è anche sconvolto di queste cifre. È chiaro che adesso bisogna fare in modo che il Napoli trovi un giocatore un po' scontento forse, che voglia provare l'epprezza della città partenopea e che rimane comunque la seconda squadra in campionato e assolutamente anche parteciperà alla Champions, come abbiamo detto, direttamente da seconda fascia. Allora io mi auguro che questo appeal del Napoli torni. È chiaro che li devi convincere i calciatori anche con un po' di soldini, perché se no non vai da nessuna parte, allora io mi auguro che il Napoli però lavori più veloce perché impelagarsi in mille trattative rischierebbe di arrivare all'inizio del campionato senza attaccante. Francesco, posso farti una domanda? Certo, con piacere. Allora, niente, io ti volevo chiedere. La Juve era già forte così come era l'anno scorso, ha fatto degli acquisti importanti e ha chiuso con la ciliegina sulla torta. Ora perderà o meno, diciamo, Pogba non si sa ancora, però già eventualmente ha buttato, ha allungato le mani su Rakitic. Ma l'anno prossimo, cioè dal 20 agosto, quando si partirà col prossimo campionato, si giocheranno due campionati? Questa è una bella domanda. Io mi auguro che la Juventus pensi un po' di più alla Champions League e possa inciampare in qualche partita, ma più che altro per rendere vivo il campionato, perché come giustamente dici tu c'è il rischio di fare due campionati completamente, uno che vince e gli altri che si dividono le briciole. Ripeto, spero che la Juve inciampi, ma non perché pensi alla Champions più dello scudetto, forse quest'anno lo faranno loro, ma più che altro perché poi per tentare di vincere la Champions qualche partita non la giochi al massimo livello. È successo anche già quest'anno, ve lo ricordate, l'inizio più bruttino della Juve, non lo so. Io mi auguro, ripeto, che il Napoli però arrivi all'appuntamento con il campionato e con la Champions con una squadra pronta. Io per chiudere, se siete d'accordo a te, un'altra domanda a Francesco la farei, perché siamo tutti chiaramente presi da questo possibile meglio, ormai certo erede di Guaina, di là di chi sia, però vorrei ricordare che al Napoli manca innanzitutto un'alternativa al design, un esterno basso a destra che finora non è arrivato. Almeno uno se non due centrocampisti, perché sono fatti tanti nomi in questi mesi, i risultati sono stati tanti, anche lì il piatto piange. Non vorrei che questa necessità di sostituire i Guaini in maniera giustamente impellente possa rallentare altre trattative che secondo me sono di vitale importanza perché il Napoli ha una Champions League da giocare, Francesco. Ma tu hai ragione, in questo momento si parla troppo dell'attaccante, si deve parlare del centrocampista, due per me, un esterno a destra, non bisogna fermarsi, il Napoli deve fare il suo mercato, deve lavorare ancora. Chiaro adesso tutti sanno, e ritorniamo al punto di prima, che i soldi il Napoli ce li ha. Io mi auguro che Giuntoli e lo stesso Arello De Laurenti, che è sceso in pista in prima persona, entri a gamba tesa e chiuda velocemente i contratti, perché l'abbiamo sentito dire dalla sua voce che i contratti del Napoli sono dei prestampati e che si chiudono in due minuti. Allora io me lo auguro che il Napoli arrivi nelle prossime settimane ad aver chiuso tutto, perché ragazzi non si può, il campionato inizia fra esattamente un mese, anche meno. Meno, meno, meno. 24, 24. Oggi è 24, quindi già avremo giocato la prima giornata fra un mese. È vero che il mercato finisce dopo la seconda giornata, ma tu con il Pescara ci devi giocare, con il Milan ci devi giocare. E io, va bene Gabbiadini, ottimo prestazione ieri, due gol splendidi. Però ragazzi, non troveremo sempre il portiere del Trento. Va bene. A segurecità. Salutiamo, salutiamo, ringraziamo. Sì, bravo. Claudio, allora ti dico quello che facciamo adesso, ti lascio per questo momento. Mandiamo in onda i due interventi che hai registrato con i nostri tifosi stamattina. Poi passiamo alla pubblicità e ci risentiamo intorno alle 18.40, va bene? Ok, a dopo. A dopo. Allora, chiudiamo il collegamento con Claudio Zelli. Allora, in regia, Claudio Zelli stamattina ha registrato un paio di interventi di alcuni nostri tifosi presenti a Di Malo, tra gli altri anche un responsabile di un club di cui adesso mi sfugge il nome, ma lo ascolterete tra poco. E allora, ci sentiamo subito dopo questa intervista e poi ancora una volta daremo lo spazio alla pubblicità. Pietro da Cassino, se l'aspettava questa partenza improvvisa di Guain? Ma tutto sommato no, però ci stanno. Perché lui aspira a un qualcosa in più, glielo auguro, ma se in tre anni la Juventus non raggiunge la finale della Champions League o vincere la Champions League, a questo punto sarà un grande bluff sia per lui che per la Juventus. e rimane il fatto che a Napoli vengono depositati questa bella clausola recessoria, che se la società, come io credo, riuscirà a fare un buon investimento con un centravanti, un attaccante, io credo che ce la giocheremo con tutti. Che tipo di centravanti? Perché si fanno tanti nomi, Bacca, Icardi, addirittura Dzeko. Qual è il suo preferito? Io non credo che De Laurentiis si lascia coinvolgere dalle nostre, e fa bene, dalle nostre notizie, diciamo così. A me personalmente io preferirei Icardi, perché con Icardi incomincieremo più forte ancora di Guain. Ma lei è pro o contro De Laurentiis? Perché la città, la tifoseria azzurra è spaccata. Io sono per De Laurentiis, non contro, perché io sono tifoso dal Napoli da piccolino e diciamo che ho sofferto tanto, ci sta facendo rivedere un po' il calcio quasi ad alti livelli, che è impossibile raggiungere questi grandi club europei, uno bisogna anche capire che non ci sono tutti questi soldi in questo momento e per lui, per la società Napoli, fare i soldi facili in questo momento, che non ci sono soldi, non è semplice, quindi io non li contesto nulla. Certo, se potrebbe fare qualcosa in più, tutto che venga, che ben venga, altrimenti io mi accontento anche di questo, perché ho sofferto con la Serie C, io ho sofferto con, forse pochi se lo ricordano, io ero piccolino, il 6-2, 6-1 a Napoli, gol di Braglia per l'Iuendus chiaramente, quindi diciamo che questo è un buon bagaglio. Oggi sono qua con la famiglia e spero di divertirmi questa settimana con De Laurentiis e tutta la squadra. Peppe, il macellaio detto Gargamella, ma soprattutto vicepresidente del club Napoli Meta, scioccato dalla partenza ormai quasi certa di Guain in destinazione a Juventus. Sicuramente è stato un fulmine lecce serena, perché tutta questa cosa non già l'aspettavamo mai e poi mai che il nostro, i Guain che ci facessero, ci davano questa tortura, è stata veramente una tortura immaginabile, che non si potrà mai sanare questa ferita nel nostro cuore, perché veramente lui, e allora è stata tutta una presa in giro quando veniva sotto la curva a gridare un giorno all'improvviso che ero innamorato di te, ma invece non era vero, era che voleva andare via da noi, voleva andare via da noi e non già aveva un progetto per la sua testa, purtroppo, come dicevo il Papa, tu non lo vuoi, ma va a te, però a Maraglia dà i compagni, ma ora il Papa lo fa l'anato, però non è stata in moda la cosa, in questa maniera come lui doveva andare. Io adesso stamattina mi sono messa la maglia del nostro Dio, perché questa qua è veramente non solo ha onorato la maglia. Maradona, la diciamo perché siamo in radio. Si, pensa che si vede. A Maradona non solo ha onorato la maglia, quando è più, è stato veramente per noi tifosi quell'uomo, quel giocatore, quel Dio che non potrà mai tramontare, mai, mai e poi mai, perché sta sempre nei nostri cuori. Io la fermo un attimo, perché De Laurentiis è un assiduo frequentatore, nonché amante della costiera sorrentina, siccome la tifoseria è spaccata tra pro e contro De Laurentiis, il Napoli Club Metal è in particolare a favore o contro il presidente De Laurentiis in questo momento? In prima, fino adesso, noi erano credenti al presidente De Laurentiis, perché ci ha tolto veramente, eravamoci 560 in Europa e siamo a 10esimi in Europa. Eravamo nella milma, come lui ci ha detto. Eh va bene, non diciamo la parola che ha detto lui, era un fallimento, perché era la parola più adatta, puntina, puntina, puntini, tra virgolette, quello che ha detto lui non è stato bene. Però lui ci fa pensare che già avevano programmato già questa cosa con Moratto, che è il presidente della Juve, perché? Lei mi dice perché? Perché le parole, ma a mano si stanno avverando, si stanno avverando perché lui, Iguain, noi veniamo da Sorrento, siamo arrivati ieri 100 persone per onorare il nostro Iguain, quando ieri sera, quando è uscito quel po' di sole, è stata una cosa fantastica, però abbiamo avuto quella frecciata al cuore che Iguain aveva firmato, è già fatto questo tradimento proprio in assaluto, inaspettata. Però ora si stanno verificando le cose che il presidente mi dice la mano avanti, dice che lui si dice da un'esorda, lui, noi, noi, noi... Ma la ferma un attimo, brevemente, ormai Scurdam ci ho passato, per il futuro, Bacca, o Icardi o chi per sostituire Iguain? Veramente, ieri sera ho parlato anche con il nostro mitico Carlo Albino, Carlo Albino, e allora ho detto questo, tradimento per tradimento noi dovremmo prendere la morata della Iguain. Non sarebbe male? Perché il corno è fatto a lui, a lui e il corno le facciamo pure a loro, e non sarebbe male, che poi quello che prende, prende, basta che questi soldi che il presidente le deve anche investire. E allora, abbiamo ascoltato questo nostro tifoso, abbiamo ascoltato anche il tifoso precedente, allora, io prima di passare alla pubblicità voglio ringraziare, come al solito, come faccio in ogni programma, tutti i vari sponsor che ci stanno così aiutando in questa nostra trasmissione estiva, questo Amore Azzurro Speciale di Maro 2016, che ricordo è in collaborazione con Calcio Napoli 1926.it, potete trovare il player della nostra trasmissione, quindi potete ascoltarci anche direttamente dal sito Calcio Napoli 1926.it, ringrazio Celeste Maione e Michele Mondo. ha concesso un'area Peugeot Midacars, il signor Leone per punto zero donna e punto zero uomo, il signor Citarella, l'angolo del gelato, e che gelato. E vabbè, e allora siamo giunti così adesso alla pubblicità dei nostri sponsor, ci risentiamo tra qualche minuto per continuare questa nostra puntata di Amore Azzurro Speciale di Maro. Amore Azzurro Speciale di Maro, in collaborazione con Calcio Napoli 1926.it. Il programma è offerto dalla pasticceria Mignone. Mignone, rende più dolce la vita. Zampabiaggi, l'impronta dei tuoi viaggi. Zampabiaggi, chiocciolagmail.com. Palazzo Rosenthal, hotel e ricevimenti a tre case. City Trans, il tuo corriere espresso, citytrans.it. Complesso Mirabilia 2 Village, mirabilia.com. Concessionaria Peugeot Midacars, servizio, assistenza, qualità. Poldo Takeaway Pub, studi finanziari e amore. Abbigliamento uomo-donna, slacks. Carpe Diem, pizza al metro, cogli l'attimo. Autonautica e Pomeo, organizzato Renault Dacia. Aggiungi un like alla nostra pagina Facebook. Punto zero moda e uomo. Punto e basta. L'angolo del gelato, l'angolo dei colosi. Conduce in studio Lello Delgro, inviato a Di Maro Claudio Zelli. E allora, rieccoci di nuovo in studio per continuare questa nostra puntata pomeridiana di Amore Azzurro Speciale di Maro. Mentre dalla regia mi chiamano il prossimo ospite, altrimenti richiamiamo Claudio Zelli, io vi leggo un tweet di Pepe Reina di un mese fa che diceva esattamente questo, il valore d'onore di un uomo è sempre la sua parola. Ci sono uomini di parole e uomini di parola. Una vocale cambia tutto. Questo lo scrisse un mese fa, il portiere spagnolo viene riportata questa frase sui social, ma a quanto pare allora non si capiva che cosa e a chi si riferisse. Probabilmente anche lui già sapeva un mese fa della volontà di Higuain di voler lasciare Napoli con destinazione Juventus. Insomma, abbiamo saputo anche quest'altra cosa. Nel frattempo, se non riusciamo a metterci in contatto con Raffarella, chiamiamo di nuovo Claudio Zelli. No, e allora ancora non è pronto Claudio, io vi leggo una notizia. Allora, come avevamo detto, c'è questo assalto del Napoli per Icardi e dunque ha incontrato questa mattina a Verona anche la moglie, non solo l'intermediario, ma anche la moglie nonché agente di Maurito Icardi, banda Nara. Ancora qualche altra notizia. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Dunque, abbiamo detto di questo sconto che non sono più 94 milioni, ma 90 milioni il prezzo della clausola recissoria che sta pagando dovrà pagare la Juventus e spunta invece tra le altre anche così la pista Tevez. Si fa anche il nome di Tevez come possibile e probabile sostituto di Higuain nella prossima stagione per il Napoli. Insomma, se ne stanno adesso è cominciato il toto centravanti. Vedremo chi sarà alla fine di tutta questa querelle. Speriamo che termini al più presto. Allora, abbiamo di nuovo Claudio Zelli. Claudio. Sì, rieccoci da Di Mauro mentre prosegue la stituta pomeridiana di Alimento del Napoli. Io però sono in compagnia dell'inviato di Canale 21, Carmelo Prestesimone, che ringrazio innanzitutto per la disponibilità, a cui chiedo innanzitutto, siccome ho iniziato già a parlare di un possibile approdo in azzurro, probabilità non mi sembra una data di facilità di Icardi. È davvero lui l'erede del Pipita, secondo te? Insomma, attaccante completamente diverso Claudio, sotto tutti i punti di vista, perché Higuain, a prescindere dai sentimenti, è un centravanti vero, rappresenta lo stereotipo del centravanti per eccellenza, un po' stile Battistuta, io lo vedo così, centravanti. Icardi è un ragazzo decisamente più giovane, perché ha 6 anni in meno, è un 93, Higuain è un 87, Higuain è ormai vicino ai 30 anni, Higuain ha ancora dei margini di miglioramento, completamente diverso, perché è un giocatore più quizzante, più rapido, però magari meno, come dire, concreto rispetto a Higuain. Beh, Higuain, la stagione che ha fatto l'anno scorso, il campionato che ha fatto l'anno scorso, 36 gol in 35 partite, è difficile che lo riesca a ripetere sotto questo punto di vista. Quindi, è lui l'erede? Beh, solo Nostradamus lo può sapere. Diciamo che è sicuramente un buon giocatore, vale tanti soldi, perché costerebbe 40-42 milioni di Euro che non sono pochi, adesso tutto sembra, come dire, sembrano spiccioli coins rispetto ai 90 e passa 90 milioni di Euro della clausola, perché sono 90, insomma, che c'è lo sconto se il club, appunto, interviene rispetto ai 94-736 mila. Beh, è sicuramente un giocatore importante, sarebbe un giocatore importante, poi bisogna vedere come si inserisce negli schemi di Sarri, come Sarri riesce a calibrarlo, insomma, sulla base della rosa che ha a disposizione. Studio, se avete una curiosità per Carmelo. Sì, lo studio chiede a Carmelo Prestesimone una cosa. Come vedi questo aumento, senza motivo davvero per ciò che riguarda i tifosi, questo aumento degli abbonamenti? Insomma, in uno stadio fattiscente, una squadra che perde i guain, insomma, acquisti quasi zero, se vogliamo dire così, e tu mi presenti un aumento del 30% sugli abbonamenti. Che cosa ne pensi? Eh, ne penso che secondo me è un po' lo spirito di riscatto, perché i napoletani non mollano mai, never give up, quindi a un certo punto, insomma, è stata una fiocinata terribile questo colpo di guain, questa, diciamo così, insomma, cessione che è ancora da ufficializzare, lo ricordiamo, perché è orientato, sì, è orientato verso la Juventus, più bianconero che azzurro, però, insomma, bisogna ancora ufficializzare e chiarire bene quali sono i termini degli accordi, insomma. Però è chiaro che, insomma, i guain è più bianconero. Io lo vedo come una sorta di colpo di reni da parte dei tifosi napoletani che, naturalmente, insomma, hanno subito, incassato questa fiocinata, questo colpo che va dritto al cuore, perché i guain qualche mese fa cantava un giorno all'improvviso davanti alla curva e adesso invece lo vediamo, lo immaginiamo con la maglia bianconera addosso, quindi con la maglia dei rivali più acerrimi del Napoli e lo vedo come una sorta di, come dire, di riscatto, di colpo di reni, insomma, beh, i guain è bianconero, beh, noi facciamo l'abbonamento comunque, perché amiamo il Napoli. Questo, secondo me, è il ragionamento dei tifosi napoletani. Io ho un'ultima curiosità per Carmelo, prima di salutarlo e ringraziarlo per la disponibilità, perché qui il tifoso del terzo millennio, non solo quello napoletano, è un tifoso maturo, pragmatico, che riesce anche ad accettare la cessione di un top player, certo, alla Juve è un po' più difficile, però in generale quello che manca è una progettazione nel lungo termine che consente al Napoli in qualche modo di ridurre il gap e la forbice di fatturato che c'è con la Juventus, magari investendo nelle strutture, nello stadio, e questo induce, se potete, un senso di rassegnazione per il futuro. Potrebbe essere questo il problema di questo momento. Sicuramente gli impianti sportivi, le strutture, rappresentano un cruccio per la nostra città, perché, insomma, sì, lo stadio San Paolo è messo male, ma se andiamo oltre, guardiamo il Palargento che è fermo, distrutto da 18 anni, quella è una fotografia bruttissima, perché non sono stati capaci neanche di abbatterlo quell'impianto, quindi, insomma, davvero piange il cuore a vedere queste strutture napoletane così messe male, adesso ci sono le universiadi, ci sono gli soldi da investire, è chiaro che un giocatore si sente meglio in strutture anche più confortevoli. Il Napoli, sotto questo punto di vista, è lacunosa, è un club lacunoso, perché sì, ha cartel volturno, però, insomma, diciamo così, ha di suo, di strutture, di impianti suoi, ha pochissimo, insomma, anche i settori giovanili, i ragazzi del settore giovanili, giocano a Sant'Antimo, che non è un impianto del Napoli, così non si va da nessuna parte, perché le strutture, le basi, la base di un club sportivo sono i settori giovanili e i ragazzi devono avere impianti e strutture di gioco per giocare, è un assioma semplicissimo da inquadrare, però, se questa è la situazione, insomma, adesso speriamo nelle universiadi, dai, che sono tra tre anni che possono fornire, diciamo così, delle migliorie, insomma, agli impianti sportivi e possono naturalmente produrre nuovi impianti sportivi nella nostra città, ma non solo nella nostra città a Napoli, ma in tutta la regione, perché poi saranno coinvolte anche Salerno, Caserta, Avellino e Benevento. Questa è una cosa assolutamente da fare, perché così, solo in questa maniera, solo avendo strutture sportive, possono nascere dei nuovi campioni, insomma, e da lì poi, insomma, creare una società sulla quale, diciamo così, basare, che può, come dire, rifornirsi dal settore giovanile, dalla cantera. Ma vedi, posso dire una cosa, giusto, scherzosa, tono scherzoso molto, praticamente i nostri politici sono avanti, molto avanti con le idee, perché mi dicevi del Palargento, insomma, il mare Argento che non è stato più, ma noi, praticamente, tra duemila anni, chi vivrà tra duemila anni, così come noi oggi andiamo a Pompei a vedere gli scavi, tra duemila anni gli abitanti di Napoli avranno il Palargento, avranno il Centro Paradiso, il San Paolo che sarà una sorta di Colosseo, insomma. Eh, speriamo, perché per loro, naturalmente, noi credo che non ci saremo, però, cioè, o meglio sì. Scherzavo, scherzavo, però è una situazione pietosa dei nostri impianti, assolutamente. È pietosa, è pietosa da tutti i punti di vista, riconosciamolo, perché per chiudere, vorrei ricordare, perché ci sta ascoltando da Napoli, ma anche da Lazio, poi Carmelo dirci tra, perché è possibile sintonizzarsi sul Canale 21 ogni sera in seconda serrata con il Reggio, mi se sbaglio, per tutti in ritiro. Sì, 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 dalle 23, insomma, Lazio, Campania e Canale 21 è un emittente interregionale, quindi, insomma, diciamo così, ha allargato i confini e quindi siamo, stasera però siamo alle 20 e 30, dalle 20 e 30 alle 22 e 30, con tutti in ritiro, condotto da Tittimprota, insomma, è un parterre di ospiti prestigiosi e poi da domani, dalle 23, insomma, all night long, come direbbe Lionel Ricci. Bene, bene, bene. Mi ringrazio Carmelo Prestisimone, Canale 21, per la disponibilità. Ciao, grazie, arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Ringraziamo anche noi Prestisimone. Claudio, hai qualche altra persona con te? Se mi dai qualche 30 secondi, nel frattempo, insomma, prosegue l'evento della... Eh, bravo, dici che sta succedendo. Per la verità, i calciatori hanno abbandonato il campo, in questo momento stanno facendo esercizi in palestra per completare la seduta pomeridiana, che però si avvia al termine, il drone, tanto è sempre in alto, però il volazza ancora... no, si sta abbassando in questo momento. E tra l'altro, non so se hai visto un video che ho pubblicato sui vari social, qua anche i giornalisti si iniziano a dotare di droni per fare delle prese varie, ormai siamo sempre più high take, mi riferisco all'amico e collega Francesco Monauro che abbiamo sentito prima. Io però, per chiudere, sono con il direttore di CalcioNapoli24.it, Salvio Passante, a cui chiedo subito le ultime sui Cardi, perché sembra questo il nome giusto per sostituire il Pipita, valutazione francamente mi pare un po' eccessiva. È eccessiva, però la valutazione diciamo che nemmeno l'Inter la fa il mercato, perché trovare un giocatore all'età di Cardi che nel campionato italiano riesce sempre, ormai da tre anni, ad arrivare a quota 20 gol è difficile trovarlo. Quindi se la valutazione è fatta dal Cabernet Azzurro di oltre 50 milioni di euro è proprio per questo motivo. Icardi che poi, tra l'altro, è stato tre anni e mezzo fa vicinissimo al Napoli, proprio prima dell'approdo di Higuain e di Benitez sulla panchina azzurra, era un'operazione fatta, io ho assistito in diretta praticamente all'ultimo giorno di mercato, all'Atacquark, c'erano i suoi agenti Pino Letterio e Ulisse Savini, era un'operazione last minute, definita in tutti i dettagli, che poi è sfumata perché c'è stato questo rilancio importante da parte dell'Inter che offriva maggiori garanzie al giocatore e soprattutto gran parte dei diritti d'immagine e poi alla fine Icardi decise di non arrivare più al Napoli. In quel caso il presidente era ancora Carrone, si scusò con De Laurentiis perché addirittura il Napoli lo aveva pagato di più rispetto all'Inter e quindi ci troveremo poi di fronte a questo intreccio a distanza di anni con Higuain che parte e Icardi che arriverebbe in Giusto per chiudere, detto tra di noi, Icardi tra le altre cose credo che sia forse il centravanti che più potrebbe adattarsi al gioco di Sarri ma soprattutto poi un ragazzo di 23 anni che ha sicuramente molta possibilità di crescere ulteriormente e sappiamo tutti anche la crescita esponenziale che lo stesso Higuain ha avuto stando vicino a Sarri e collaborando con Sarri. Ecco, quindi questo è l'augurio, vedremo se sarà Icardi o chi per esso che arriverà qui a Napoli e vediamo insomma, io sono convinto che comunque chiunque arriverà a giocare nel Napoli come centravanti sarà sicuramente aiutato nel suo compito da un allenatore che la garanzia, almeno per quest'anno la garanzia dobbiamo metterla tutta su di lui, dobbiamo tutto aspettarci che Sarri metta a disposizione dei calciatori tutto il suo sapere perché lo ha già dimostrato è in grado di poter far giocare bene quasi qualsiasi calciatore voglio dire insomma di un certo livello. Assolutamente sì e dico di più, secondo me Icardi se dovesse arrivare a Napoli potrebbe consacrarsi proprio con un maestro di calcio come Maurizio Sarri come dicevi tu poco fa anche perché non ha proprio le stesse caratteristiche di Higuain perché Higuain non era un vero e proprio centravanti, capitava spesso che apriva il gioco, veniva a centrocampo a prendere palla, invece Icardi è più un vero finalizzatore. Quindi potrebbe migliorare su questo aspetto e come dire migliorare anche il suo score e superare quota 20 gol sicuramente con un gioco del Napoli che esalta soprattutto la prima punta con diciamo il lavoro degli esterni. Io se abbiamo ancora 30 secondi un'ultima cosa. 30 che siano 30. Ok. Salve i tifosi oggi sono abbastanza pragmatici sono anche disposti ad accettare la gestione di un top player quello che manca però a questo Napoli è una programmazione del lungo periodo che possa consentire in qualche modo da qui a dieci anni di ridurre la forbice di fatturato che c'è con la Juventus magari investendo nello stadio nel merchandising invece questa continua ad essere una società leggera che non guarda oltre la siepe. Perché secondo te? Secondo me perché De Laurentiis ragiona sull'immediato e non in prospettiva. Probabilmente sa che dopo di lui l'era De Laurentiis finirà anche perché il figlio maggiore si dedica al cinema mentre solo Edeo segue la squadra quasi quotidianamente. Quindi anche per questo secondo me il Napoli non fa un programma a lungo termine sviluppando il settore giovanile con delle strutture ed è ospite da 12 anni dell'Holiday in a Castelvolturno. Anche il discorso stadio ogni volta viene tirato in ballo con l'amministrazione De Magistris. Se una società vuole costruire qualcosa di proprietà lo fa senza aspettare magari quelle che possono essere le diatribe a livello burocratico. Quindi secondo me De Laurentiis in questo contesto punta all'immediato e punta tutto sulla prima squadra. Quindi il discorso che fai tu sicuramente è quello di una società che vuole consolidare la propria posizione da qui a lungo termine. Però bisognerebbe chiedere al Presidente se in futuro ci sarà ancora l'era dell'Aurentis 2.0 con i suoi figli. Quindi è questo il dubbio che potrebbe scioglierci. Con questo dubbio amletico ma ragionibile di Salvio Passanti, direttore di Calciapoli 24.8 che ringrazio per la disponibilità, penso che possiamo chiudere qui da di mano. Assolutamente sì Claudio, ti ringrazio gli ospiti. Ti pregherei per domani mattina, questa sera o anche domani mattina sul presto, se prepari qualche intervista di qualche tifoso, insomma ci fa sempre piacere, però che siano un attimino un po' più veloci le interviste. Sì appunto, cerchiamo di non fare dei proclami ai nostri tifosi. Ma c'è tanta voglia di parlare. Lo so, lo so, lo so, però basta anche una risposta molto semplice e secca, ok? A domani allora. Va bene, a domani. Ciao Claudio, chiudiamo il collegamento e allora siamo così al termine di questa nostra puntata di Amore Azzurro Speciale di Maro. Vi ricordo solo semplicemente e velocemente l'appuntamento. Prossimo appuntamento domani mattina alle ore 11, sempre qui su Radio Amore, Radio Amore i migliori anni, ripeto ancora, per il nostro Speciale di Maro, Amore Azzurro. Avete ascoltato? Amore Azzurro, Speciale di Maro, in collaborazione con CalcioNapoli1926.it. Il programma è stato offerto dalla pasticceria Mignone. Mignone, rende più dolce la vita. Zampabiaggi, l'impronta dei tuoi viaggi. Zampabiaggi, chioccelagmail.com Palazzo Rosenthal, hotel e ricevimenti a tre case. City Trans, il tuo corriere espresso. City Trans.it Complesso Mirabilia 2 Village, mirabilia.com Concessionaria Peugeot, Mida Cars, servizio, assistenza, qualità. Poldo, Takeaway Pub, studi finanziari e amore. Abbigliamento uomo-donna, slats. Carpe Diem, pizza al metro, cogli l'attimo. Autonautica e Pomeo, organizzato Renault Dacia. Aggiungi un like alla nostra pagina Facebook. Punto zero moda e uomo, punto e basta. L'angolo del gelato, l'angolo dei golosi. Amore Azzurro, speciale di Maro. Alle ore 11 e alle 18, naturalmente, su Radio Amore.